A me innanzitutto piace dire che se mi chiedono se voglio essere chiamata sindaco o sindaca, a me piace essere chiamata Ilaria. Credo che i savonesi desiderassero un po' un cambiamento e forse ho interpretato meglio di tutti gli altri candidati questo cambiamento. Adesso è il lavoro che c'è da fare veramente tanto e domani ci rimblocchiamo le maniche e ci mettiamo al lavoro. Ecco, secondo lei come va questo cambiamento?